In un posto purtroppo, come potete vedere, è alle mie spalle un po' triste per Parigi, dopo un po' di Beaujolais ho trovato in un mercatino un altro libro sempre della nostra amica, la Margherita Duras, e come al solito lo leggerò e ve ne parlerò al più presto. Ecco, passeggiando per il cimitero di Montparnasse, dove è sepolta Margherita Duras, provo a raccontare questo libro. La storia è quella di una famiglia che vive in un piccolo paese, Vitry, poco fuori Parigi, famiglia povera, il padre viene dalla Piadura Padana, la madre da una zona non ben definita tra la Russia, la Polonia, la Bielorussia, da quelle parti lì, si sono trovati in questa cittadina, hanno 7 figli, lui è disoccupato, lei è anche disoccupato, lui forse ha dei problemi di salute mentale. Questa famiglia vive, nel frattempo vediamo la tomba dell'autrice, Margherita Duras, 1914-1996, vive in una casa che è stata risparmiata dalla demolizione, dal comune di Vitry, è stata data a loro, come vi ho detto sono disoccupati tutti e due a vivere con questi figli. Il figlio più grande, di 12 anni, ma è grande, 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 sembra che abbia più di 12 anni, è un genio, diremmo. Infatti cosa fa questo figlio? Non va a scuola, ma non ha bisogno di andare a scuola, impara tutto, è andato alcuni giorni e poi è andato via perché secondo lui insegnano solo le cose che uno non sa, frase apparentemente contraddittorie che ritorna un po' in tutto il libro e che non è mai spiegata. Lui che cosa fa? Lui da solo trova un libro, probabilmente una Bibbia e comincia a leggere, non sa leggere lui, però non si sa come lo legge, lo capisce e verifica questo fatto, fanno vedere il libro a qualcuno che sa leggere e affermano che effettivamente quello che lui ha capito è corretto. Vivono appunto un po' distenti, la madre è sempre lì, che cosa succede? Succede che i due fratelli più grandi in qualche modo si innamorano, si innamorano e hanno anche dei rapporti di tipo carnale fra i due. Allora lui, tornando al nostro protagonista, il figlio, questo Ernesto, che cosa fa? Lui ascoltando quello che dicono nella scuola, che lui non frequenta, quindi soltanto mettendosi fuori dal muro, impara tutto, tutto quello che c'è da imparare con una modalità di tipo fantasioso e poi va all'università e anche l'università impara tutto quello che c'è da imparare semplicemente andando ad ascoltare un po' di lezioni senza nemmeno iscriversi all'università, senza avere alla fine nessun titolo di studio. È un libro che è molto, come dire, scenografico, ci sono moltissimi dialoghi, in effetti, come racconta la stessa Duras alla fine del libro, anni prima, nel 94 mi pare, o nell'84, non ricordo bene adesso, lei aveva fatto un film dal titolo La pioggia d'estate e successivamente ha voluto trarne un libro e si vede che ha una struttura cinematografica, ci sono molti dialoghi, ci sono molti dialoghi, scene fisse all'interno di questa poverissima casa, soprattutto dialoghi fra la madre e il figlio, quelli che hanno un maggiore numero di dialoghi e così loro si raccontano e lei è molto triste di questo. Il fatto che lui se ne vada genera paura, il senso di morte in tutti quanti, la sorella, in qualche modo di lui, anche se non viene mai espresso in questo modo, ha paura che lui se ne vada, ha paura di non resistere alla sua ripartita fisica verso appunto Parigi, verso l'università. Ed è un libro, devo dire, in realtà è un po' strano questo qua, un libro dove la trova è un po' lineare, non succede nulla, vuol dire, non succedono fenomeni molto particolari. Questo vitri è un paesetto fuori Parigi che la stessa Duras definisce, privo di qualsiasi interesse, di qualsiasi senso di tipo cinematografico e lei in qualche modo lo fa diventare il luogo di questo romanzo, prima del film e poi del romanzo. Cosa c'è da dire? Questo è un libro che più si è avanti più uno in qualche modo lo trova un po' strano. È uno degli ultimi libri che ha scritto la Duras, è stato pubblicato nel 90, quindi insomma lei è morta nel 96, come abbiamo visto appena adesso dalla tomba. Ricorda anche per esempio la diga contro il Pacifico, perché i rapporti fra la madre e il figlio in questo caso sono molto particolari, molti stretti, fatti di tenerezza, fatti anche di scontri, ma stesso di un legame molto forte fra di loro. Insomma io francamente lo trovo molto interessante come libro. Bene, in conclusione, naturalmente ci sono anche altri personaggi, c'è un istitutore, ci sono altri personaggi che io adesso non vi racconto, lascio a voi scoprire. Il libro eccolo qua, La pioggia d'estate, questa è la versione francese che ho trovato appunto nel posto degli libri usati, ma c'è anche la versione italiana. Bene, io vi suggerisco di leggerlo e vi auguro ovviamente buona lettura. Grazie. Grazie a tutti.